buongiorno a tutti buongiorno a tutti quelli che si ascolta da casa oggi messaggio che voglio portare a voi è un messaggio di incoraggiamento quelle che antonina aveva già parlato prima e lei è finito la lode parlando di signore riceve il profumo della nostra lode giusto e oggi parlerò proprio di questo del buon profumo del buon profumo di gesù ma prima di iniziare voglio che abbassiamo la nostra testa mettiamo in preghiera che signori possa continuare a preparare il nostro cuore a preparare il nostro spirito la nostra anima per ricevere questi messaggi perché come detto prima ogni messaggio è un messaggio di amore è un messaggio per crescere spiritualmente per essere guidato nei questi percorso nostro cristiano no quindi ogni parola di papà come ben detto il nostro amato diacono a inizio è una chicca di amore che il signore versa ogni giorno quindi vuole conoscere il signore deve conoscere la sua parola deve cercare il suo vuoto attraverso la parola e attraverso la parola no entra nel nostro spirito e ti guida e ci dà quell'animo quella freschezza quell'aria con la boccata di aria fresca ogni giorno giuseppe abbassa appena appena perché sta facendo ecco grazie prima di iniziare il messaggio voglio pregare insieme a voi signore gesù noi te ringraziamo papà per questa mattina signore per queste questo inizio di giornata papà per quello che tu hai preparato oggi per noi spirito santo signore allontana da noi ogni pensiero negativo papà ogni distrazione spirito santo che noi non possiamo guardare chi sta portando il messaggio ma noi possiamo sentire attraverso il messaggio il tuo amore la tua gloria la tua potenza spirito santo che noi possiamo questa mattina guardare signore con gli occhi spirituali signore ascoltare signore con l'orecchio spirituali signore e che noi possiamo signore avere la tua mente padre perché la nostra papà purtroppo papà è falla ma la tua signore è perfetta perché ogni cosa che viene da te signore è perfetta e gradita a me gloria a dio voglio iniziare parlando di di perché no di questo messaggio perché quando noi chiediamo a papà un messaggio per per la chiesa lui prima ci dà il messaggio per per noi scusate la voce perché con queste aria condizionata purtroppo sta fregando tanti non sembra estate sembra in inverno ottono che tutti raffreddati purtroppo ma noi dichiariamo la guarigione nei nomi di gesù e questi messaggio il signore hai dato già due mesi fa no perché già parlava di questi profumo aveva iniziato con le donne a parlare del profumo di cristo però il signore diceva no tu devi continuare questi messaggi deve portare questi messaggi perché questi messaggi è una tua testimonianza una testimonianza che darà anche a loro una chicca per affrontare ogni cosa e tu mi dice ma perché sta parlando così claudio il profumo di cristo viene proprio da una situazione che stavo passando perché noi quando meno ci aspetta veniamo attaccato da nemico ok e purtroppo la prima cosa che lui attacca è la nostra mente dopo il nostro cuore e molte volte da nostra bocca esce delle cose che sono brutte no anche se tu non vuole anche se tu non desidera quello quindi ho passato un periodo un po negativo dove io pensavo no ma io sto bene apparentemente stavo bene come profumo quando tu vai a comprare un profumo tu guarda magari fuori no ma don che bello oggetto che bello vetro non bella come dice bottiglia no e compri profumo poi tu apri quelle profumo annusa dice mo buono magari non è quello che ti ispira di più però compra o molte volte le persone compro il profumo perché magari profumo che sta nel momento neanche ti piace ma compra perché è profumo del momento allora giustamente io apparentemente stavo bene anche dentro di me quando pregava pensavo che stavo bene ma non è così e nemmeno di questi incontri che si è mandato a trani e ringrazio a dio per come usa i suoi uomini le sue donne no l'apostolo hai pregato e parlato di luce e quando si parla di luce non c'è niente che rimani occulto giusto perché se tu entrano mai stanza buia e accende telefono o una piccola luce riesce a vedere qualcosa giusto e il mio percorso iniziato proprio quel giorno e io non sapevo perché ma sentivo che dentro di me stava qualcosa cambiando qualcosa stava un combattimento di dentro di me io diceva ma perché questa cosa papà ne quelle giorni ha avuto inizio di una liberazione forte delle cose che stava dentro di me nascosta no nel mio inconsciente che è venuto fuori in quel momento io non mi vergogno di dare questa testimonianza perché noi piuttosto deve invergognare di rimanere nel peccato non della liberazione della guarigione che signore ci dà e io non ho vergogna di dire ho guardato dentro di me e vedeva tante ossa è morta tante cose brutte e non d'occupa perché molte volte non dice ma ma è stato quello come pastore sempre diciamo sempre occupa a qualcuno no però giustamente faceva parte già della mia infanzia un qualcosa che aveva cambiato la mia vita già a inizio no nella nella mia esistenza e giustamente crescendo io non poteva combattere anzi ho messo un muro ho messo un muro per non guardare quelli problemi però che succede che questa cosa ti fa male e quando parlavano di ammarezza questa parola mi dava fastidio mi dava fastidio ma perché amarezza 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 e un giorno sono andata a cercare cosa è amarezza perché quando parla di amarezza diciamo radice di amarezza io non sono amara no nessuno vuole essere amare vero anche se noi siamo gioiosi felici ma nessuno vuoi dire si sentire dire io sono amara è vero e cercando che cosa era amara ho capito che amarezza sono le tristezza sono le angoscia sono le cose che ti fai stare male e io ho detto caspita Gesù allora c'è questa amarezza dentro di me perché noi non dobbiamo guardare il comportamento delle persone dobbiamo guardare noi ok perché le persone saranno sempre le persone ma siamo noi che devemo riconoscere chi siamo in cristo perché noi si siamo rinati in cristo io non devo guardare quello che mi fa gli altri ma io devo guardare chi sono in cristo il signore ci insegna in efesini di usare le nostre armature ogni giorno giusto e ci fa usare questa armatura dalla testa ai piedi tutto il corpo quindi quando tu vai in guerra ogni giorno anche con te stessa anche con i tuoi problemi tu devi stare pronto dalla testa in giù basta che tu non metti una parte della armatura sarà attaccata proprio lì e io lasciavo ogni tanto qualcosa a parte un giorno dimenticava di mettere il casco un giorno dimenticava di mettere la corassa e l'inimico attaccava proprio lì perché lui sa lui ci studia ogni giorno sa il tuo punto deboli sa dove attaccare lui sapeva che a toccando nel mio cuore nelle cose cara mi faceva male e lui ha usato proprio le persone che amavo che amo e che hai già perdonato a farmi male magari con le cose che dice vabbè ma queste sono sciocchese ma per me non era sciocchese in quel momento perché dice caspita io posso aspettare di fuori ma non da magari persona che amo e invece no satana usa proprio le persone che tu ama per attaccarti e se tu fai caso da genesi apocalissi c'è tutti questi esempi parliamo di giuseppe d'egito no che è stato venduto per i suoi dai suoi fratelli parliamo di davidi che lui stesso i suoi fratelli metteva da parte invece è stato dio a scegliere lui quindi se va a guardare stanno tanti di quell'esempio e questo nel quale periodo che stavo vivendo io non guardavo a questi esempio antonella io guardavo quello che io stavo sentendo ma come si permettono di toccarmi come si permettono di farmi male di parlare della mia persona dimenticato pure che aveva un dio un gesù che era mio avvocato un gesù che non pensava quello di me io stava più preoccupata di quello che pensava gli altri molti volte noi dimentichiamo che siamo perché stiamo più concentrato ne quello che dice la scente e questa cosa molte volte tocca anche la tua identità in cristo perché il signore ti dice tu deve guardare in alto tu deve guardare lui con lui che ti hai salvato che hai donato vita che ti hai torto che ci hai donato una nuova vita ma noi che cosa facciamo si concentriamo in tutto quello che sta intorno si concentriamo magari nella debolezza degli altri invece di riconoscere le nostre debolezze purtroppo questa cosa con passato tempo fa male fa male e tu inizi a vivere una vita cristiana piena di illusione dove tu pensa magari che sta facendo una corsa una camminata giusta però non è così perché molti dei cristiani tornano indentro e lasciano servire il signore perché stanno concentrato più ne quello che loro sono ne quello che loro le altre pensano ne non quello che dio vuole e quello che gesù vuole noi dimentichiamo che noi non siamo niente senza gesù e che noi solo una cosa dobbiamo fare e stare sotto i suoi progetti la sua volontà quello che la sua il suo desiderio no portare anima a lui portare il vangelo di cristo dimentichiamo che devemo diminuire perché lui cresca in noi e viviamo una falsa umiltà no? perché dimentichiamo che ogni giorno ci devemo andare lì a umiliarsi davanti alla potenza di Dio perché quando noi facciamo questo le cose diventano più facili per noi molte volte noi camminiamo con queste pesi ma è pesa che noi stessi stiamo portando perché il fardo di Gesù è leggero è dolce è dolce quando ascolto un credente che si lamenta e dice io non ce la faccio e le cose non cambiano io sto servendo Gesù ma ancora le situazioni sono così dico Dio Santo perché non riusciamo a vivere tutto compiuto è così difficile vivere tutto compiuto è difficile però il Signore l'altro giorno parlavo con un fratello il Signore ti dice dice nella parola che nel mondo passeremo per tribulazioni per momenti difficili no? il Signore non dice accetta me e la tua vita cambia in fiore no, non dice questo ogni giorno combattiamo con leoni il pastore venerdì ha parlato del leone che gira intorno a noi no? della parola di Dio e io dico Dio Santo è vero ogni giorno amassiamo un leone ma amassiamo un leone quando siamo con Gesù da sole noi possiamo fare nulla anzi anzi senza Gesù quel leone è lì sempre pronto ad attaccarci e molte volte attacca attacca nelle finanze attacca nella salute attacca la famiglia è il suo compito ricordati che il compito del nemico è distruggere la nostra vita il progetto di Dio quindi svegliamoci è così basta poco però Dio dice no figlia tu devi uscire di quello tu devi uscire di quella taverna perché ci ha portato per fare un qualcosa così come ognuno di voi ognuno di noi siamo chiamati a portare la buona novella il corpo di Cristo deve portare la buona novella quindi prendiamo questo perché noi dobbiamo badare ogni giorno perché a me devo dire ma io sto in piedi no vada per non cadere lo stesso apostolo Paolo parla questo vada per non cadere non guardare le altre guarda magari la paliusca che sta nei tuoi occhi guarda la tua vita stessa molte volte stiamo più preoccupati a guardare la vita degli altri e dimentichiamo della nostra molte volte stiamo predicando alle persone della vita delle persone del problema delle persone e dimentichiamo casa nostra dimentichiamo la nostra vita oggi vedo tanti tanti ministri di Dio cristiani che trascurano la propria loro vita perché sto prendendo cura degli altri e il Signore mi ha avvertito in questo figlia è bello quello che tu fai perché tu sei chiamata a questo a servire perché tutti noi siamo chiamati a servire come Gesù no Gesù è lasciato la sua maestà la sua gloria per venire nel mondo per servire e insegnare a servire giusto quindi quello che noi dobbiamo fare è servire però dobbiamo anche guardare badare noi stessi io non posso prendere cura degli altri quando io non prendo cura di me io non posso amare il mio prossimo se io non mi sto amando il mio corpo è il tempio del Spirito Santo se io trascuro il mio corpo se io trascuro la mia vita se io trascuro la mia casa che è il mio primo ministerio io sono falita io sono falita se io non prendo prima cura del mio marito dei miei figli della mia casa io non posso prendere cura della chiesa e noi stiamo vivendo un momento ora di stand by gloria a Dio di reserte un momento di zerare tutto e iniziare da settembre si inizia un nuovo percorso cristiano nella chiesa nella nostra chiesa nella nostra vita nella nostra casa ma noi iniziamo già da oggi il Signore vuole che iniziamo da oggi a fare pulizia perché la nostra casa la nostra vita deve profumare di Cristo amè gloria a Dio alleluia a Gesù e voglio iniziare parlando di come il Signore vuole che noi siamo questo profumo leggiamo Genesi 8 chi ha la Bibbia può già prendere la Bibbia alleluia il Signore sente un odore suave e il Signore dice in cor suo io non maledirò più la terra a motivo d'uomo perché il cuore d'uomo cosa fa disegni disegni cosa guardiamo noi cosa guarda il nostro cuore sono i disegni invece che cosa siamo chiamati a fare a vivere e guardare i progetti di Dio perché il pensiero di Dio è il pensiero di di pace di amore di vita di speranza di vita eterna invece noi che cosa facciamo guardiamo i cori e vediamo solo i progetti malvagi perché purtroppo chi non è rinato di nuovo chi non vive Cristo vive una vita di derrota ok vive una vita di vive la la vecchia natura la natura morta ma Gesù chi è? è una nuova vita Gesù in quella croce è morto per dare un'opportunità di avere una vita nuova ma noi dimentichiamo questo quindi fin dall'adolescenza cosa ho detto prima? che tutto è iniziato nella mia adolescenza giusto? e io ho passato tutto questo tempo senza capire e perché aveva quella amarezza nel mio cuore però il Signore ci spiega perché perché è proprio dall'inizio di ogni cosa che noi il percorso della nostra vita perché vede come il nemico è astuto la parola dice che il Signore già dal ventro della tua madre ti hai chiamato per per nome quindi se tutti i disegni mauvaghi vengono già dall'adolescenza Satana già sa quello che deve fare già dall'inizio molte volte le persone non riescono neanche a portare avanti una gravidanza perché viene attaccato già dai dentro dai ventri della mamma io mi ricordo la mia nora che quando stava incinta di Chiara si alza la notte si mette nel soggiorno io stavo nella mia camera da letto che non lo so perché il Signore mi sveglia e sentivo quella oppressione perché quando tu stai collegato con il Signore quando tu stai in preghiera quando tu metti la tua casa la sua vita la sua famiglia nella mano di Dio il Signore ti avverti di ogni attacco noi siamo chiamati a essere sentinella anche in casa nostra nella nostra vita e a un certo punto sentiva quell'angoscia sentiva quell'epesso ma che sta succedendo il Signore mi dice ausati e va nel soggiorno mi auso vado nel soggiorno e vedo mia nora che stava con queste pancione che diceva non ce la faccio più non ce la faccio più ho detto andiamo ospedale e lei dice no non vuole andare a ospedale io dico Signore mio Gesù che sta succedendo ho detto vado a usare la mia arma perché cristiano prima cosa che fa prega giusto prende la tua autorità e prega e ho detto Marta chiudiamo gli occhi preghiamo perché io sono sicura che Gesù è qui e lui farà ogni cosa iniziamo a pregare a un certo punto guardo Marta e dice Marta il nemico sta facendo di tutto per tu non avere questa bambina ma il Signore in questo momento Marta hai dato vita hai dato vita di nuovo tu porterai esistenza questa benedizione abbiamo pregato si siamo abbracciate lei è andata a dormire sono andata a dormire ma il Signore è così grande è così meraviglioso che lui conferma ogni cosa ogni cosa perché ma è un qualcosa della mia mente Dio veramente ha parlato con me veramente sta succedendo qualcosa quando prego sì lui ha portato un uomo del Brasile e lui non sapeva che Marta era mia nora e non culto qui in chiesa è andato di là a pregare per mia nora e dice il Signore mi sta rivelando che nella tua gravidanza la tua bambina aveva il cordone umbilicale oh alleluia Gesù e in quel momento lui ha detto il Signore hai dato nuova vita a questa creatura perché esiste ancora uomini donne di Dio Dio parla con i suoi Dio parla con i suoi figli quindi continua a pregare non molare continuate a pregare perché Dio risponde e se tu ancora hai dubbio Dio non lavora nel dubbio Dio lavora nella certezza quando Dio ha usato la mia bocca per dichiarare vita era lui che stava parlando e lui ha detto fila ci farò vedere che io sono nella tua vita e ha usato quell'uomo e quell'uomo è venuto qui e non sapeva che Marta era mia nora perché io quell'uomo non conosceva anche se era un brasiliano come a me io non lo conoscevo no? perché è facile dire quello che già sa della tua vita io posso proclamare e dichiarare se io già so una situazione ma una persona che non ti conosce non sa che è tuo parente come fa? io penso che tanti di voi così come io siamo stati presi da tante rivelazioni di Dio è vero? se stiamo qua oggi è perché Dio ha usato la bocca di qualcuno per rivelarci qualcosa per confermare qualcosa nella vostra vita giusto? gloria a Dio alleluia a Gesù e Dio continua con una promessa non coprirò più ogni essere vivente come ho fatto con tutto che noi siamo deboli con tutto che noi siamo fai Dio è con noi in ogni momento e parliamo del profumo sembra che un profumo sia una delle cose più antiche della umanità Dio già parlava del profumo nella sua parola ma non un profumo qualsiasi un buon profumo il vero profumo quel profumo che noi ogni giorno dobbiamo indossare dobbiamo usare molte persone diranno no ciò che conta è quello che sta dentro no? ciò che conta è quello che che sono no 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 ciò che conta è quello che Dio è nella nostra vita tu puoi usare il perfume più buono più costoso ma se dentro di te pussa qualcosa non serve di niente non serve di niente e parlare dei profumi in questo periodo che purtroppo molte persone hanno il problema che sudano no? non so se è capitato io che prendo il pulmo e dico Dio santo dammi la forza papà porta qua il tuo profumo perché purtroppo c'è gente che è so solto non si lava perché il profumo costa poco due euro che si compra un profumo no? ma c'è gente proprio che dice no tanto sto sudando che serve fare la doce e pussa ancora di più oh Gesù perdona papà quindi lui pone guarda riguardo di una cosa la depravazione uomo ha innata tendenza interiore che lo trascina verso il male già fin della prima infanzia conferma anche Romani 3 10 18 alleluia come è scritto non c'è nessun giusto neppure uno non c'è nessuno che capisca non c'è nessuno che cerchi Dio e qua che cosa vuol dire Claudia? che quando noi stiamo vicino a una persona che profuma che cosa succede quando il profumo è buono? sono attratta da questo profumo Gesù ma tu c'è profumo buono e quando noi stiamo vicino Gesù che è profumo buono cosa vogliamo fare? vogliamo stare sempre vicino a Gesù perché profuma di questo profumo unico unico e fai caso che quando tu stai vicino troppo vicino a una persona finisce che quel profumo rimane in te rimane in te e quel profumo ti riconosce e in ogni posto dovunque va c'è sempre quel buon profumo sotto il tuo naso è vero però se io no vado da Gesù se io non cerco intimità con Gesù come posso sentire questo buon profumo? come posso sentire questo buon profumo? giusto? quindi qui serve la intimità ma oggi è così difficile avere l'intimità con Gesù principalmente estate vuole vedere com'è difficile stare vicino a Gesù mamma mia l'inverno perché fa freddo c'è la neve piove l'estate perché c'è il mare fa caldo c'è il sole molte volte troviamo così tanto scusa per non stare vicino a Gesù per non stare in comune ad un'ansia perché la parola dice dove sta due o tre lì sto è giusto o no? ma se abbiamo anche difficoltà di venire nella casa di Dio come facciamo a vivere il profumo di Dio? perché il profumo di Dio si sente di più quando siamo tutti insieme però basta guardare intorno e vediamo caspita che succede papà? perché questa difficoltà? perché questa difficoltà di stare nella tua presenza di cercare la tua fase di annusare il tuo profumo perché? perché? perché c'è sempre un combattimento con noi stessi c'è sempre un combattimento con quello che sta intorno a noi molte volte andiamo alla casa del Signore come se per noi è un sacrificio è triste principalmente per chi sta qua sopra e guarda e dice ma sto predicando c'è qualcuno ancora che sta ascoltando la parola di Dio o sa le mani? oh gloria stavo già mi preoccupando non so è meglio la sera ragazzi o continuiamo la mattina io ho cercato di fare la mattina perché poi chi vuole dopo può andare a mare quindi c'è tutto il pomeriggio per dormire per rilassare riposare ora ascoltiamo siamo concentrati chiediamo al Spirito Santo Spirito Santo svelati no? Spirito Santo voglio ascoltare la sorella che non è la sorella che sta parlando ma il Signore che ti vuole dare un qualcosa anche magari se non sta arrivando anche magari se c'è difficoltà di capire quello che sto parlando ma chiedere al Spirito Santo perché lui parla tutte le lingue lui fa traduzione di ogni lingua non guardare quello che parla ma di da quella frase che la sorella ha detto mi ha detto quella cosa vado a pensare vado a portare a esistenza quella cosa capito? prendete quello che sto dicendo perché io non sono una teologa io non sono una predicatrice io sto qua e do un saluto ai nostri pastori che stanno in Campi Salentino no? stanno alla chiesa del PDG e diamo saluto a loro ringraziamo siamo qua per continuare a fare l'opera del Signore amén gloria a Dio alleluia Gesù non c'è nessuno che capisca non c'è nessuno che cerchi Dio tutti sono sviati tutti quanti sono corrotti non c'è nessuno che pratica la bontà neppure uno e qua ho messo la faccina che piangeva che diceva oh Gesù ma noi stiamo cercando papà di fare stiamo cercando il nostro piccolo però lui ha fatto quello ha parlato di questo prima no? prima nell'antico testamento quando il popolo non voleva sapere niente il popolo stava per fatti i suoi ma ancora oggi molte persone la loro gola è un sepulcro aperto con le loro lingue hanno tramato frodi sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti oh Gesù la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza hai visto? tuttavia la risposta amorevole di Dio è a questa situazione tragica e provvedere una via di riconciliazione con lui attraverso chi? attraverso Gesù lui con tutto che sa che noi abbiamo questa natura che la nostra lingua è pronta per essere per maledire mamma mia com'è brutto quando ascoltiamo i fratelli le sorelle che si lamentano che murmurano che dicono cattive cose che malediscono il marito mamma mia è brutto è brutto e molte volte noi facciamo anche noi queste cose vuoi sapere chi sei? prendi il telefono registra metti là il telefono registrando e inizi a fare il servizio a fare le cose oppure il lavoro e dopo prendi questo telefono e ascolta quello che tu hai detto nell'arco della giornata mamma mia Gesù mamma mia proviamo a fare questo io ho fatto Gesù perdonami padre ho detto questo 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 e questo ma è bello quando tu riconosci questo e vai davanti a Dio e prega e dici signore perdonami ma non deve essere una cosa costante questo perché una volta che tu sai già dove stai sbagliando non è che ah tanto vado da Dio credo perdono Dio perdona no 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 cerchiamo di fare di meno pecare di meno non è perché so che Dio è benevole e misericordioso che io devo approfittare di questa benedizione di questa grazia no 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 allora se io so che io sto agendo così signore inizio questa mattina papà metti un carbono ardente nella mia bocca papà che questa giornata signore sia di benedizione iniziamo già dalla mattina a parlare bene perché quando iniziamo della mattina a parlare bene tutta la giornata sarà così e quando gloria a lui e quando magari c'è quella tentazione di madonna questo è mio marito questo è mio figlio il signore conta fino a tre e ricorda che lui ci ha dato anche autocontrollo ma perché è difficile vero sorella è difficile combattere con la carne a sottomettere la carne allo spirito allo spirito allo spirito santo è così difficile ma il signore dice non è impossibile non è impossibile lui sa che noi siamo deboli però noi dobbiamo riconoscere che lui è forte Dio io non ce la faccio ma tu puoi papà io non ce la faccio signore ma con te io so che io posso ogni cosa oh alleluia Gesù riconosci accettare quel sacrificio di cruce no? lui hai dato il suo figlio per noi per noi noi dimentichiamo quando noi sbagliamo quando noi torniamo di nuovo a fare quello che Dio già ti ha liberato noi stiamo rinnegando quel sacrificio noi stiamo tornando dalla nostra natura morta e stiamo tornando di nuovo dentro io dico Dio Santo non voglio tornare di nuovo papà a essere quello che io era papà non voglio io ogni giorno la mia preghiera è papà tu mi hai torto di quella situazione io non voglio tornare più ma io quello che sto dicendo sto dicendo fate anche voi fratelli sorelle fate anche voi non torniamo a essere quello che eravamo prima perché noi siamo una nuova creatura ma se noi stiamo a vivere ancora le cose vecchie di nuovo non c'è niente di nuovo c'è solo quella veste che papà ha messo ma che ogni giorno se non andiamo da lui a lavarsi a mettere il suo profumo e rimaniamo sporchi con i nostri peccati perché quando noi non andiamo davanti a lui quando noi non cerchiamo di consagrarsi di purificarsi è finito è finito e stiamo guardando io sto di bianco però davanti gli altri davanti al Signore le nostre veste stanno sporche è così perché noi crediamo che stiamo bene ma chi ti guarda di fuori chi è spirituale perché quelle che sono naturali pecca come a te non ti guarderanno invece chi sta in spirito chi sta collegato con il spirito santo dirà vede Elisa sta con una maletta rossa è vero Elisa è rossa che colore è no Elisa è rossa non è nera perché io vedo rossa invece Elisa dice no io sto con nera così siamo noi no io sto bene ho pregato oggi sono andata lì a fare la benedizione quindi sto bene sono andata in chiesa ho pregato per il cibo basta basta quando leggiamo la parola di Dio eseguiamo ogni cosa che è difficile ma non è impossibile consacrarsi digiunare umiliarsi davanti alla potente mano di Dio noi vediamo come Dio vede ma quando noi non ci mettiamo in discussione noi vediamo come vogliamo noi noi ci guardiamo come vogliamo noi prendiamo quelle specchie io sto bene oggi ho già metto questo ma no apparentemente tu sei quello che è dentro non quello che tu vesti o che tu vuoi parlare per gli altri quindi non serve la dimostrazione diamo con la nostra vita stessa i spiritualmente io vedo persone che attraggono proprio le persone per quello che sono per quello che sono la sua vita quello profumo di Cristo ah ma la mia famiglia c'è ancora questa situazione c'è ancora quelle persone tu non ti preoccupare tu rimani lì firmi e forte pregando cercando che il Signore cambierà ogni cosa perché Lui è un Dio di promessa Lui è un Dio che compie ogni cosa quindi il tempo di Dio non è il tuo tempo il nostro tempo non è così noi vogliamo le cose subito però per ogni cosa c'è un tempo quando tu pianta un qualcosa devi aspettare che cresci piano 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 e perché quando noi vogliamo una cosa noi vogliamo subito tanto io vado in chiesa so che la cosa cambierà succederà questo poi quando passa un anno due anni tre anni quattro anni cinque anni e non è cambiato niente a che serve perché il Dio ti metterà quella voce a che serve questa mia chiesa tua vita non è cambiata ma la tua vita è cambiata non perché Dio non vuole che cambia perché tu stai facendo magari qualcosa che non cambia quella situazione molte volte non è la culpa di Dio la culpa è nostra siamo noi che stiamo bloccando la nostra benedizione con il nostro parlare con il nostro modo di fare con i nostri pensieri con la nostra incredulità la nostra non mancanza di fede perché la fede abbiamo e quando parla basta che sia come un granello di senapi non vuoi dire perché è piccolina vuoi dire che è forte cerca di come dire schiacciare quelle granello avrà difficoltà di schiacciare quelle granello quindi quando Gesù la parola parla deve essere come un granello di senapi non vuoi dire perché è piccolina basta che ho la fede piccolina e va bene no 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 basta che quella fede è forte è quello che Gesù vuoi parlare in questo percorso quindi usiamo di più la nostra fede Signore Tu hai promesso Signore io aspetto i tuoi tempi papà 2 Corinthians 2 15 ma grazie sono resa a Dio che sempre leggiamo insieme ci fa triunfare in Cristo e che per meso nostro espande da il profumo della sua ma se io non conosco non cerco la conoscenza non cerco Dio come posso capire questo profumo come posso esalare questo profumo se io Dio non conosco come posso la nostra la nostra conoscenza non è la conoscenza di Dio il nostro sapere il nostro fare non è quello che Dio vuole dobbiamo essere istruiti da Dio vivere Dio esalare di salare Dio se no non funziona niente noi siamo infatti il profumo di Cristo fra quello che sono sulla via della sarvesa e fra quelle che sono sulla via della perdizione quando guardiamo ciò che la Bibbia dice scopriamo che abbiamo una responsabilità di esalare il profumo di Cristo dentro di noi attraverso la nostra testimonianza questo odore viene percepito da chi ci circonda la tua testimonianza chi ci guarda dice wow che bello peste bianca profumo vede che pace invece quando stiamo vicino con le persone che mormorano ci possa è così amore è così che dice ah io non voglio essere così ah io non voglio questo per me purtroppo è così con chi vuoi stare con le persone che ti portano pace o con le persone che ti danno fastidio che murmurano che stanno ma amata con chi con chi con le persone che ti portano pace io cerco la buona amicizia io cerco di stare con le persone che c'è buon profumo che c'è pace perché io anche io voglio pace quindi quando tu ascolta le persone che murmurano che succede inizia dentro di te accade un qualcosa di brutto no anche se tu combaci no Gesù ma finisce che arruvina anche la tua giornata la tua macinata il tuo percorso si inizia a diventare pesante capito facciamo attenzione il profumo l'odore che in noi e che diffondiamo è la conoscenza che abbiamo imparato e creduto e che ora condividiamo attraverso la predicazione della parola quindi impariamo della parola dopo aver conosciuto Gesù e averle veramente donato la nostra vita noi possiamo non possiamo più essere le stesse persone cioè che esiste Gesù che trasforma il nostro interno in modo tale che cominciamo a isolare il buon profumo Gio conta su di noi proprio perché siamo questi messageri del suo amore una persona piena di Dio può non dire una parola ma il suo comportamento i suoi gesti le sue reazioni dimostra Gesù non serve non serve parlare parlare io sono io faccio io ho fatto quello io sono andata là io ho trasformato così no 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 basta il silenzio noi vediamo come si sono trasformate le vite delle persone per frutto che sta andando per quello che vediamo nella loro vita nella loro famiglia io anche se non conosco la casa di nessuno perché io non ci vivo le persone noi vediamo già come stanno le vite delle persone già da come parlano già da come si comportano quindi non serve troppe parole libro di Ecclesiastes 10 1 leggiamo insieme Ecclesiastes 10 1 l'avevo messo le mosche morte fanno pulsare e impugnire l'olio dei profumieri un po' di foliglia guasta il pregio della saggezza e della gloria e dice e che c'entra questo profumo? C'entra c'entra non serve un gran numero di stolti amunti l'azione sciocca per ovvinare l'effetto positivo della saggezza una scelta sbagliata può distruggere una reputazione onorevole e spesse volte le situazioni sono oltre che controllo perché anche se possiamo progettare e fare i nostri piani e prendere ogni precauzione basta un fuori errore per qualcun altro distruggere tutto e qua parla di un profumieri che aveva con il vaso di profumo con il profumo buono e cade una mosca quando cade una mosca che succede? contamina tutto il profumo così è anche con la nostra vita noi facciamo noi facciamo un percorso accettiamo Gesù conosciamo la sua maestà lasciamo la nostra vita profumiamo di Cristo giusto? però basta una mosca la mosca cosa rappresenta? il peccato la mosca rappresenta il mormorio la mosca rappresenta l'egisteria l'immondizia in generale basta quella mosca dentro di noi e si arruvina tutto basta un cattivo pensiero e si arruvina tutto chiedo un esempio a voi chiedo a voi se tu hai una minestra hai preparato quella minestra con tanta amore ai quelle profumo a un tratto guarda la mosca tu hai visto quella mosca che si è posiata nel cibo tu che fai? la mosca è andata via ma mangia? quindi secondo voi secondo me Dio che ti guarda no? che hai messo dentro di noi il buon profumo vede che dentro di questo buon profumo c'è delle schifese peccate l'immondizia lui che cosa fa? ci butta no però cosa dobbiamo fare? fare tutto di nuovo tutto di nuovo io non posso andare lì con quella minestra rovinata e e dire Dio tanto ho pulito ho tolto la mosca no 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 Dio come vaso rompe e farmi di nuovo fa male ma inizia di nuovo signore fa tutto nuovo papà purifica lava la casa noi cantiamo sempre questa casa è sua e poi e poi la casa viene pulita ogni giorno lascia la casa senza pulire due o tre giorni e vede cosa succede come trova la casa? piena di povera con la puse è vero? così è anche la nostra casa spirituale se noi ogni giorno andiamo da papà e purifichiamoci laviamoci con il suo sangue potente quella casa rimane sporca ah ma tanto non è basta già il sacrificio che ha fatto Gesù Gesù è fatto la parte sua ma noi ogni giorno dobbiamo fare la nostra non è perché Gesù è fatto il sacrificio viviamo nel tempo della grazia che dice tanto sono salvo tanto c'è Gesù no 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 così facile puoi vincere facile no? ogni giorno dovevo metterci in come dire dovevo andare a dire signore che c'è ancora da cambiare mettiamoci in discussione è difficile è difficile ma se vuoi vivere una vera vita cristiana con il signore ci dobbiamo ogni giorno mettiti in discussione ogni giorno dobbiamo andare dal trono di Dio e dire papà che c'è ancora da cambiare che c'è ancora da togliere signore papà c'è ancora qualcosa che pussa io non lo so ma tu lo sai mi fai vedere io pensavo che io stavo bene io pensavo che stavo profumando ma dentro di me stava quella mosca quella mosca che non ho messo io ma che è arrivata e se tu fai attenzione legge la parola di Dio chi è il chef delle mosche chi è il signore delle mosche Beosebù quindi se tu non stai vivendo una vita cristiana con il signore tu stai servendo Beosebù perché quella mosca è lì l'eschifez è lì lui è il principe delle mosche non sto qua per innaussare il suo nome ma sto qua per dire perché la parola viene detta a tutti e molte volte le persone non parlano di demoni non parlano di satano e dicono no no noi dobbiamo innaussare il suo nome in nome di Dio no 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 la gente deve avere conoscenza che i demoni ci sono ci sono il male c'è perché molte volte sì parlare di Gesù parliamo apriamo la nostra bocca parliamo di Gesù dichiariamo il suo nome sì ma dobbiamo capire che esiste anche male se Dio stesso para di demoni se Dio stesso caccia i demoni se Dio stesso predica su questo c'è un motivo oggi non sentiamo più le prediche per insegnare le battaglie spirituali purtroppo è così invece noi dobbiamo capire che esiste una battaglie spirituale ogni giorno ogni giorno lui è sempre pronto per rovinare la minestra che Dio ha fatto la minestra il progetto quindi stiamo attenti siamo molto attenti a questo quindi perché fa pulsare un po' di poter dire l'olio no quindi quello che è dentro di noi e io voglio parlare di un uomo in seconda re 20 dolci questo uomo progetto di Dio un uomo un grande re il re Ezechia che Dio ha osato no per guidare il suo popolo di Israele un uomo che profumava di Dio per carità per carità ma è bastato una stoltesa è bastato lui lasciare le sue armi lasciare la guida di Dio per rovinare tutto leggiamo in quel tempo in quel tempo Berodac Filo di Baladan re di Babilonia mandò una lettera e un dono a Ezechia perché aveva sentito che Ezechia era stato ammalato vai c'è solo questo ok allora che succede questo è questo è ministro che viene da un autorregno nemico viene lì al reino di Ezechia Ezechia cosa fa? poi leggete a casa continuate perché sono tanti versi leggete a casa e questa è solo una chica per continuare per conoscere la storia che cosa fa? fai vedere il suo intero castello ogni area del suo castello ogni stanza tutto il suo oro tutte le sue richieste fa vedere tutto quelle che cosa fa? va via no? vai lì dal suo re e racconta tutto quello che hai visto che succede che il re da Babilonia va e attacca e ruba tutto molte volte che cosa facciamo? e qua domani a voi fate attenzione con chi cammina con chi va in casa tua io casa mia prima di venire le persone sai cosa faccio? io signore do un esempio Gioacchina viene ma i suoi demoni i suoi problemi tutte le sue cattiveria i suoi pensieri fuori qui signore reina tu qui signore questa casa è tua signore io i demoni non accetto quindi dobbiamo fare attenzione chi viene in casa nostra fare attenzione chi mangia con noi a tavola dobbiamo fare attenzione è molto importante perché molte volte è già capitato le persone vengono in casa tua per vedere quello che ha quello che fa ha le tue debolezze molte volte le persone entrano con gelosia magari perché vede che tu grazie a Dio sta sendo benedetto no? perché il signore ci benedisce ogni giorno gloria a Dio ringraziamo a Dio per questo nel suo piccolo no? perché nella semplicità non dico la casa con piscina non quello nella sua semplicità ne quello che ci serve e la persona magari puoi avere pure di più di quello che hai tu ma dici ah ci ho comprato quello capito? no? o ah bello magari lei ce l'ha di più ma il fatto che tu hai a quella persona dà fastidio è vero purtroppo è così entra un spirito di invidia di gelosia dentro di casa tua e tu dici caspita finì qualche ora stavo così in pace tranquillo che è successo? è cambiato l'area di casa ha cambiato l'espirito della casa ma sento questa pesantezza e se tu non vai da Dio da Gesù tu non riesci a capire cosa è successo invece quando tu sei collegato conectato con Dio il signore dice ehi mi sa pregare riprende quell'espirito di gelosia di invidia è così è così perché basta poco basta poco ma non è stato solo quello che ha rovinato queste re sai che cosa è successo? che lui ha fatto quello perché lui voleva fare vedere che anche se Babilonia era un un regno ricco perché Babilonia era famosa per le sue richese vediamo anche Nabucodonosò che faceva vedere io sono il signore del signore il re del re giusto per questo è successo tutto quello che è successo con Nabucodonosò quindi quando Ezechia ha fatto questo lui voleva fare vedere a quel ministro che anche lui era ricco che anche il suo regno aveva tante richese quindi la soberba l'orgoglio quindi è bastato questa stoutesa perché se lui chiedeva a Dio signore cosa faccio il signore diceva non fare entrare nemico in casa tua giusto o no se Babilonia era nemico di Israele come fai tu aprire la porta e dice vedi tutto quello che ho vedi tutte le mie armi vedi tutto quello che possiede il mio esercito tu cosa stai facendo e sta dando strategia per nemico e così è anche casa nostra quando noi sbagliamo facciamo qualcosa già so dove devo attaccare lui ci studia lui ogni giorno manda qualcuno lì per guardare la debolezza di quella è l'orgoglio la debolezza di quella è perché non prega quindi meno prega allora già so dove attaccare farò di tutto per distrarre così non prega così non sta forte quindi lui è astuto lui è astuto quindi non diciamo tanto ho Dio ho il Signore non mi serve niente no 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 proprio per questo il Signore ti dice già della mattina lodi glorifica mio nome cerca la mia presenza e la sera prima di dormire cosa dobbiamo fare ringraziare dire Signore continua con me Signore perché anche quando noi stiamo dormendo il Signore non dorme il guardia di Israele non dorme non sonecchia quindi stiamo attenti un uomo saggio giusto timorato da Dio ma un stolto un solo momento di stupidità che gli ha rovinato la vita carissimi carissimi miei fratelli un avvertimento che è stato per me ma voglio condividere con voi a volte roviniamo la nostra vita per una sciocchezza quanti matrimoni sono stati distrutti da 5 minuti di stupidità quanti giovani uomini e donne non si sono pentiti di 5 minuti di sciocchezza per il resto della loro vita basta qui dici 5 minuti 5 minuti ma molto di meno basta un minuto per rovinare tutta la tua vita quanto profumo è stato buttato via a causa di una mosca a causa di un peccato a causa di una debolezza no attenzione alle piccole cose siamo attenti a ciò che diciamo facciamo attenzione anche le cattive compagnie ai pensieri attenzione alle piccole cose che arruvino la vita una mosca morta arruvina lunguetto dei profumieri ma c'è un'altra questione per finire per non finire negativamente voglio dirvi proprio come Dio piace il profumo e mette il profumo nella sua creazione e le hai chiesto il profumo anche nell'adorazione perché non serve solo adorare quando adoriamo Dio devemo dire signore io prima di adorarti signore lavami purifica perché aprire la nostra bocca quando dentro di noi c'è tutte le schifesse ma ci profumo deve andare quale profumo deve andare al trono di Dio quale profumo magari noi possiamo avere la voce più bella possiamo cantare in sintonia ma nel trono di Dio dice pato c'è pussa è così è così perché noi vediamo guardiamo negli occhi naturale ma Dio è spirito Dio vede quello che sta nel nostro spirito nella nostra anima ragazzi è così facciamo due risate ma è così quindi noi siamo presso Dio il profumo di Cristo sia quelle che sono salvato sia con loro che periscono perché c'è un progetto anche per loro solo quelle che renegano Dio non vogliono sapere della salvezza quello Dio non può fare niente ma per tutti quelli che periscono per tutti quelli che ancora non conoscono Gesù per Lui c'è profumo ah c'è profumo perché il Signore vede già quello che non vediamo no il Signore già sa chi veramente vuole essere salvo chi veramente magari sta combattendo sta aspettando solo che viene un Giobattista per dire c'è Gesù che può cambiare ogni cosa ci vuole dare vita vita in eterno amén quindi dobbiamo esalare il profumo sia in chiesa sia fuori dice l'Apostolo Paolo una domanda buon profumo o cattivo profumo meditiamo questa mattina su questo io sto meditando già da giorni da mesi sto cercando di ogni giorno dire Signore voglio profumare sempre di più di te c'è potere in quelle sangue che è stato versato in noi un profumo buono e autentico si caratterizza per la sua durabilità se vogliono usare maestro l'incontro quotidiano con lui è essenziale possiamo noi essere queste piccole bottiglie piena del miglior profumo Gesù ma come possiamo vivere in modo tale da diffondere agli altri questo buono profumo possiamo mostrare generosità l'amore e possiamo condividere l'Evangelio con gli altri in modo che possiamo trovare che possono trovare la via della salvezza possiamo permettere allo Spirito Santo di dimostrare i suoi doni di amore gioia gentileza attraverso di noi possiamo anche dire che l'essenza del buon profumo di Cristo è il frutto dello Spirito la sua fraganza la sua nota di profumo è l'amore quando il Signore mi ha svegliato la nota per dire che la sua essenza la nota perché ogni profumo c'è la nota è vero Maria c'è quello che c'è la nota di ci può varie fraganze no? fruttato brava quindi la nota che prevalesse in questo profumo è il suo amore l'amore se manca amore in questo profumo va bene vedi che è bello questa cosa quando dici figlia la base del profumo è l'amore con l'amore tu funzioni cosa ma il frutto del Spirito Santo è l'amore gioia pace per te ancora va bene c'è Galati Galati 5 21 22 che conoscete già ma leggiamo insieme leggiamo insieme perché se il Signore hai dato c'è un motivo ogni volta vogliamo saltare ma c'è torna là Galati 5 22 giusto? Alleluia Gesù gloria a Teo nome ci siete chiesa di un amén gloria a Dio gloria a Teo nome Gesù sto andando a conclusione dai che andiamo tutti a mare chi vuoi andare a mare andiamo a mare? un mare di gloria un mare di gioia un mare di amore alleluia gloria a Teo nome Gesù per te che ancora non hai dato quel passo di fede di oggi e vuoi accettare Gesù come tuo Signore e Salvatore e vuoi diventare il buon profumo di Cristo ripentiamo insieme Signore Gesù riconosco che sono peccatori e ho bisogno del Tuo perdono credo che sei morto sulla croce per i miei peccati e sei risorto il terzo giorno ci dono ci dono la mia vita e ti accetto come mio unico e sufficiente Signore e Salvatore amèn gloria a Dio alleluia ora diamo un buon pomeriggio una buona giornata a tutti quelli che ci ascolta se tu ancora non hai fatto questo passo di fede sia anche tu quelli che ti guardi che ti ascolta un buon profumo di Cristo amèn buona domenica con la pace del Signore Gesù alleluia gloria a Dio